salve dalla doc oggi vi parlo di una caratteristica del cane del gatto che non tutti conoscono e che spesso vi fa chiedere se ad esempio cuocendo la verdura vi sono delle carenze parliamo dell'esigenza di vitamina c i mammiferi tranne noi umani i primati e le cavie possono sintetizzare la vitamina c e anche altri animali come anfibi rettili alcuni uccelli possono farlo la sintesi della vitamina c o acido scolbico avviene grazie a un enzima specifico quindi il nostro cane il nostro gatto non hanno bisogno di assumere vitamina c nella dieta a meno che non vi siano condizioni particolari infatti si consiglia comunque un'assunzione extra in animali anziani o se hanno problemi infiammatori o articolari o ancora in caso di tumori ma attenzione la vitamina c in eccesso quindi che non viene utilizzata viene excreta nelle urine e in quanto se rimanessa in circolo potrebbe essere tossica in particolare se diamo un eccesso di vitamina c possiamo avere nausea crampi addominali e anche errea secondo alcuni studi infatti inoltre un eccesso di vitamina c è scritto con le urine potrebbe favorire anche la formazione di calcoli di ossidato di calcio naturalmente la quantità di vitamina c che trovate negli integratori per le diete non danno normalmente problemi di eccesso ma bisogna fare attenzione se vi viene consigliato di dare un'integrazione extra solo di vitamina c o integratori che anche di altro tipo con alte concentrazioni ma sapete come mai l'uomo e altri animali non sintetizzano la vitamina c perché probabilmente abbiamo perso questa l'utilizzo di questo gene grazie a una mutazione o spontanea indotta ora le mutazioni a meno che non causano infertilità o morte del feto vengono portate avanti allora siccome noi e questi altri animali mangiavamo tanta frutta e verdura non avevamo bisogno di sintetizzare la vitamina c probabilmente in altri animali come i carnivori se è avvenuta una mutazione del genere questa è stata cancellata perché non sarebbero potuti sopravvivere in ogni caso se qualcuno vi dice di dare la vitamina c e non è un veterinario o un nutrizionista non fatelo essendo un'integrazione supplementare molto delicata va fatta sempre con dosaggi precisi e tenendo conto di quello che mangia il vostro cane il vostro gatto o se prende già degli integratori con qu con vitamina c